incontriamo il professor fabio verna che è un abitué qui del non so neanche siamo qualche incarico nel cantiere penso di sì sono il presidente onorario che è una cosa che mi ha sempre fatto sorridere io ho sempre detto di essere onorato di questa la battuta volevo farla perché in realtà come sappiamo il presidente è guidato da un'equip di giovanissimi e di brillantissimi menti pensanti che rendono il cantiere questo think tank questa fabbrica di idee e qui tutti quanti siamo innamorati questo seminario è intestato diciamo intitolato alle riforme prospettive problemi ovviamente parliamo di questa ventata riformatrice che in qualche modo questo governo si è voluto dare per cambiare una parte delle cose che in italia non funzionano tra cui la situazione economica che è abbastanza triste la situazione anche dal punto di vista dell'occupazione e così via ecco foglio verna che ne pensa di diciamo se si stanno ottenendo dei risultati oppure è soltanto una speculazione un po' mediatica io tendo a pensare che si tratti di una speculazione mediatica in che senso vi sono i primi sceni di ripresa lievi leggeri ma non sono determinati da nuove politiche di riforme istituzionali che servono per altri paesi sono tutte fasi che servono alla crescita ma quei cenni sappiamo che confindustria ha finalmente dato un primo segnale reale di inversione di tendenza il nostro pil per la prima volta dopo quattro anni va in crescita è una crescita lieve stiamo parlando di uno 0 3 per cento ma siamo andati in valori negativi per svariati trimestri consecutivi per cui appunto il termine recessione e oggi abbiamo questo primo dato che è interessante ma senza voler fare critiche perché io non tendo a fare critiche voglio analizzare dati questi valori che la confindustria sta imprimendo nascono da una serie di fenomeni economici che sono indipendenti dalle scelte dell'attuale governo in carica io sto pensando al crollo del prezzo del petrolio lo scorso anno ricordiamoci che abbiamo dimezzato il costo della bolletta energetica che è un dato importantissimo per un paese manifatturiero come il nostro sto pensando all'operazione del quantitative easing voluta da mario draghi dalla bce fortemente voluta 60 miliardi di euro al mese immessi nell'eurozona con questa pioggia di denaro chiaramente dalle banche che acquistano i titoli la capacità di reinvestire di finanziarie di sbloccare smobilizzare rischi incagliati per cui sicuramente è una leva incredibile e poi ci sono altri fenomeni interessanti anche l'espo io ho avuto la piacere di partecipare alla cerimonia inaugurale con tutto il malaffare che è venuto fuori e mi auguro che la magistratura persegua vehementemente tutte le situazioni di turbativa d'asta di corruzione di collusione che ci sono state dietro comunque una vetrina dell'italia del mondo spettacolare e molte aziende anche aziende miei clienti hanno avuto la possibilità di vedere degli incrementi seri dei fatturati perché comunque è un momento in cui l'italia è un po centro del mondo l'espo insomma è stata una sfida anche riuscire in qualche modo a inaugurarla perché in un certo momento ovviamente è sembrato che fosse in pericolo questa appuntamento il rispetto di questa scadenza perché insomma gli scandali diciamo le vicende giudiziarie a cui accennavi erano veramente veramente importanti eppure insomma si è riuscito magari con qualche imperfezione tu eri presente diciamo qua c'era ancora era estesa la sensazione di incompiuto oppure insomma era una cosa minima noi siamo abituati io mi ricordo ero giovane i famosi mondiali del 90 che li aspettavamo da anni e i lavori furono terminati il giorno prima del calcio d'inizio allora sicuramente se vogliamo essere onesti si vedeva che diverse situazioni alcuni padiglioni alcune così correzioni definizioni erano ancora in work in progress il colpo d'occhio era comunque spettacolare il padiglione italia che è l'unico che rimarrà comunque come padiglione fieristico gli altri verranno tutti quanti poi o smontati o destinati ad altro uso è veramente spettacolare io sono rimasto colpito da tante cose ma parlo da cittadino io non voglio permettermi di fare critiche non sono un architetto che possono essere le fricce ti colori o i nostri bambini nostre voci bianche che hanno in qualche modo cambiato le ultime battute dell'ilno di maimeli e che invece di dire siamo pronti alla morte finalmente dicono siamo pronti alla vita mi è piaciuto il presidente del consiglio che finalmente ci dice oggi inizia il futuro mi sembra una cosa bella positiva cominciare a pensare in termini domani di fare mentre noi purtroppo abbiamo questa triste abitudine di voler deprecare svilire si può fare meglio quello non va bene è stato fatto qualcosa è stato fatto purtroppo con una serie di situazioni ricordo che fu letizia moratti sette otti anni sono a volere l'espo a volerla a milano abbattersi per questo e ricordo che l'espo nasceva come momento di nutrizione del paese poi siamo passati all'alimentazione credo che un momento di nutrizione della terra come come globo e come no come abitanti sia una cosa positiva che vada comunque incontro alla necessità di tutti poi hanno partecipato le multinazionali poi alcune di queste sicuramente non hanno forse il cibo biologico non hanno comunque quella qualità di prodotto però comunque stiamo affrontando molto seriamente il tema della nutrizione di 7 miliardi 800 milioni di persone perfetto e fabio torniamo se è possibile a diciamo alla materia economica che con cui avevamo aperto in qualche modo una riflessione un po su questa europa noi su libri tv ci occupiamo grazie a francesco de palo un po abbiamo abbiamo delle finestre ogni tanto sulla grecia che è un paese che sta insomma messo molto peggio dell'italia e pare che sia ormai un refrain il prestito per pagare il prestito e quindi questi greci che non riescano a produrre il più necessario per ripagare poi il prestito chiedono prestiti per pagare prestiti insomma questo ciclo avrà una fine o porterà non lo so un default e poi un'altra cosa volevo chiederti perché io da ignorante ho sempre visto l'ipotesi default della grecia affiancata a estromissione dall'euro ecco è una cosa necessariamente legata cioè l'una comporta necessariamente anche l'altra è un tema molto molto complesso e quando farete un dibattito parteciperò con gioia in pillole vi sintetizzo questo la grecia produce automobili no produce televisori no produce acciaio no produce bauxite no possiamo continuare la grecia ha uno stato molto presente una valanga di dipendenti pubblici infinita e ha un'unica vera risorsa che il turismo bellissimo paese il mare della grecia siamo andati tutti quanti a vela nelle isole delle ge e portati sulle ale del melteni abbiamo dei ricordi stupendi ma la grecia non può vivere il turismo e non può far sì che lo stato sopperisca tutte le necessità e da qui abbiamo il problema della del debito pagato contraendo un altro debito in ogni famiglia in tutto il mondo anche in paesi dove l'economia va meglio che nel nostro paese vi è il nipote il cuginetto il fratellino povero disoccupato o svogliato o quello che noi vogliamo definirlo la grecia ha questo ruolo in europa non facile è stata culla di civiltà è stata culla di storia è stata culla di arte non ha saputo trovarsi in un meccanismo di ammodernamento dall'altra parte abbiamo il contraddittore forte della grecia che è questa breta troica tutta tedesca per cui con un'efficienza con una pignoleria con un meccanicismo che sicuramente i nostri cugini d'oltre adriatico non comprendono o comunque comprendono ma non fanno fatica ad accettare la grecia ha sbagliato a voler entrare tutti i costi nell'euro hanno sbagliato i governanti della grecia a proporre dei conti pubblici diversi perché immediatamente con l'entrata dell'euro è venuta a galla che quei conti non quadravano probabilmente si potrebbe ipotizzare per la grecia che cosa un ritorno alla dracma come uso interno e la possibilità di avere una libera circolazione dell'euro per operazioni di scambi internazionali per una serie di opportunità la dracma potrebbe essere stampata e svalutata nel caso necessario perché il grosso dramma dei paesi che non riescono a produrre è la cosiddetta svalutazione perdita del potere d'acquisto di una moneta spero che i greci ce la facciano a rimanere in europa ma per far ciò devono diventare come gli altri paesi europei dei paesi produttivi e questo è basilare noi non siamo messi bene come conti pubblici il dato odierno è di un ennesimo sforamento del tetto del debito pubblico siamo arrivati a 2.183 miliardi di euro faccio l'economista se mi passate il termine così ridondante oramai da oltre 30 anni non so con quanti zeri si scriva 2.183 miliardi di euro devo contarli però noi abbiamo una parte del paese la parte manifatturiera che ancora riesce a produrre esportare siamo ancora presenti in mercati internazionali ancora il made in italy è apprezzato in tutto il mondo e sono quelle piccole e medie imprese che ancora pagano le tasse ancora non credo pagano stili di lavoro grazie a fabio verna e organizzeremo se tu vorrai anche qualche dibattito su libri tv invitandoti quando parliamo anche magari di materia internazionale se vorrai grazie grazie infinite grazie a tutti